Il posto migliore della città 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 buongiorno buongiorno buongiorno, De Matteis De Matteis, certo mio figlio Presidente, questo è il signor Matteis De Matteis dettagli per la casa ci sono nuovi sviluppi che potrebbero essere interessantissimi per quello che dobbiamo concludere noi per il nostro affare come avrete capito dalla nostra offerta di rilevare il vostro stabile sappiamo che in brutte condizioni sappiamo che è abitato da brutta gente e sappiamo che la zona sta perdendo di valore a causa delle frequentazioni del vostro stabile sicuramente il signor Adamo ultimamente non si sta comportando benissimo, però come mai voi vorreste rilevare il nostro stabile? Presidente noi abbiamo degli interessi commerciali importanti attorno a quello stabile e a tutta la zona circostante e di per tipo sono interessi sono interessi che penso non le riguardano nel dettaglio ma se proprio insiste noi abbiamo intenzione di creare un impianto di stoccaggio per la nostra merce e quali merci trattati? noi trattiamo generi alimentari ahhh l'ippodromo bello sei un cavallo ma siamo qua quanti? no siamo un attimo dai giorno libero mi porti qua non so è vero ma facciamo miliardi si vabbè guardiamo il tabellone che miliardi facciamo comunque a parte di tutto io sono venuto qui per indagare sulla morte del muro siccome Sotti era uno che scommetteva che stava sempre qui e che eccitava giù allora penso muovere un po' tipo questo per chiedere a qualcuno intanto guardiamo il tabellone esci dai è un pezzo di merda dai lo conosci sto cavallo? io vado a prendere una birra vabbè ci vediamo tu giochi? no vada veramente scomma ma che gioco eh sono solo un cavallo lo conosco un attimo Pantegana Pantegana sparca il culo a tutti allora è vero dai giochi con un biglietto al volo dai ti do un numero vabbè ma non c'ho soldi ti presto io ti presto io ma finita di Pantegana vinci? vinci sicuro al 100% guarda te l'appoggio io? eh ma tu l'appoggio io 20 euro se vinci mi devi dare la metà o meno di quello che io vabbè ti farò un muovo se non vinci te li regalo io non so due dobbiamo fare un servizio fotografico incredibile però io ritoccherei un po' l'immagine perchè l'immagine è importante in questo lavoro anzi direi che è tutto se provassimo a sciogliere un po' i capelli qua prova così dici che va meglio? non sono troppo glamour no no molto bene così ah addirittura si 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 andiamo giù un minimo mi sembra di mettermi un po' il mostro faccio un po' la tivana tu muori di disinvolta fammi vedere cosa sei capace di fare dai ci vediamo allora signori io qua ho un bel precontratto che se volete dargli un'occhiata a questo precontratto i giovani corrono sempre nel contesto del contratto no è cosa risaputa però ognuno di noi ha anche una sua storia personale fatta di difficoltà di disagi comunque è un bene che diamo se ne rimanga fuori dalle valle per un altro po' almeno fino a quando non concludiamo l'affare a me delle difficoltà delle persone non interessa perlomeno non più di quanto interessano le mie difficoltà quindi vuole fare questo affare in tempi brevi si o no non abbiamo tempo da perdere mi creda io ho anche dei principi dottor Puma le abbiamo tutte dei principi non siamo qua neanche per parlare dei principi da comunisti bene io non sono un comunista lei avrà i suoi e io i miei i principi e certo non mi lascio calpestare da nessuno attesa abbia pazienza io sono sicuro che il nostro presidente potrà mettere nero su bianco degli argomenti che la convinceranno oh fichissimo cazzo grande eh? ha vinto? ho vinto, soldi, soldi eh niente vabbè allora è a posto no? è a posto vabbè c'è chi? io qua dentro lascio scommessi sono qui solido ho prestato amore non ho fatto 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 ti sei fidato di me hai vinto vabbè si può fare però senti eh io sono qui per indagare sulla morte del muro non usci il muro traficavo tu si stava sempre qui ma io ho un bel po' che non lo vedo e beh non c'è più non c'è più non c'è più non c'è più dai merda vabbè dai gioca pure questo palle secche ancora palle secche palle secche fotografico serio avremmo speso molto di più ma cos'è? c'è qualcosa che non va? ti vede un po' triste niente casini vari le solite cose in casa quando siamo insieme vorrei che dimenticassi tutto il resto signor Matteo De Matteis certamente io le volevo offrire molto di più di quello che lei spera in questo momento qua stiamo parlando di affari affari seri io le offro le doppie allora guardi Dottor Puma è evidente che io l'ho incontrata anche perché sono intenzionato a vendere però c'è sempre il problema di Adamo se io butto fuori Adamo anche se lui è in galera adesso i suoi guai per lui e per la sua famiglia aumentano in maniera esponenziale si renderà conto di questo? noi i guai dei nostri amici di solito li risolviamo de matti sì ma lei deve capire che io questi li ho in casa da anni mi sento responsabile della loro sorte forse lei non mi ha ancora capito io le sto facendo una parte economica vantaggiosa e le sto anche dicendo fra le righe se lei ancora non l'ha capito che ho intenzione di risolvere tutti i problemi collaterali va bene allora visto che lei in qualche maniera si impegna come dire a farsi carico anche in qualche modo dei problemi della famiglia di Adamo io posso pensarci mi dia almeno una settimana per pensare va bene ci pensi su una settimana una settimana comunque io non lo so se la famiglia di Adamo se ne andrà via così facilmente abbiamo motivo di pensare che tornerà presto al suo paese che cazzo dai 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 vaffanculo se giochi di me ho perso ho perso tutto ho perso tutto vaffanculo hai perso tutto vaffanculo hai perso tutto t'ha preso bene una volta hai vinto una volta hai perso la terza vinci è così bianchi 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 muoviamo un amico mio andrà ti presto 700 euro di questa giocata sangue d'oro sangue d'oro sangue d'oro 700 euro sì bella è bella è bella questi sono 700 euro giocati su sangue d'oro assolutamente amico mio se vinci li ridi subito se perdi massimo una settimana questo diviene sotto casa la faccia a fantasia come dice lui e quindi sempre quindi ma vabbè 700 euro a te ne ho bella io sto pensando che ho gioco alla prossima giochi della prossima guarda un pochino sai è proprio un cretino quel cavallo sangue misto sangue rosso non mi ricordo di più firo firo non sono giocati più su sangue misto ma te l'hai giocato su un pochino cazzo si chiamava l'altro corona d'oro porca puntata vanno fregati i soldi vi sei giocati no 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 vaffanculo 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 cazzo un pochino vaffanculo mi ricordo come ho visto vaffanculo 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 ecco così colatta ottimo così ti voglio brava girati questo è il sorriso che volevo vedere finalmente vaffanculo Grazie a tutti.